Ha rubato una sedia a rotelle dall'ospedale per non tornare a casa a piedi. Una vicenda singolare, ma che è anche costata la denuncia per furto a un giovane nisseno di 24 anni. Quest'ultimo era stato accompagnato in precedenza all'ospedale Sant'Elia per essere medicato, in quanto aveva riportato delle ferite mentre era in stato di ubriachezza. Una volta che gli sono state praticate le cure del caso, ha pensato bene di impossessarsi di una delle sedie a rotelle custodite nella stanteria del pronto soccorso, utilizzate per il trasporto di pazienti che hanno difficoltà motorie e si è diretto verso la città per raggiungere la propria abitazione. Dell'accaduto si è accorta una guardia giurata che svolge il servizio d'ordine in ospedale e che ha subito allertato le forze dell'ordine. Immediatamente i poliziotti della questura si sono messi alla ricerca del giovane, il quale è stato intercettato poco dopo all'altezza di via Leone XIII dall'equipaggio di una volante. Una volta bloccato, il ladro della sedia a rotelle è stato condotto in questura per essere identificato e per gli accertamenti del caso. Ed è stato proprio lui a raccontare agli investigatori di essersi impossessato della sedia a rotelle per raggiungere la sua abitazione, in quanto si trova a grande distanza dall'ospedale. Ora si passerà alla fase processuale.